Superbo Andrea Lanfri. In attesa della formidabile vetrina di giovedì sera al Golden Gala di Roma, il fortissimo atleta paralimpico della Virtus Cassa di Risparmio di Lucca frantuma un altro primato italiano, l'unico nella velocità che ancora non gli apparteneva. Parliamo dei 400 metri che ad Arezzo, in occasione della prima giornata della seconda fase di qualificazione dei campionati societari, Lanfri ha portato a 52.07, un tempo di livello internazionale. Pensate che il record precedente era di 53.89 e che lo stesso atleta lucchese si è migliorato di oltre due secondi. E tutto ciò considerando che ha corso per la prima volta con le nuove protesi, più corte rispetto al passato, volute dalla federazione internazionale. Insomma, una conferma l'ennesima che i margini di questo magnifico campione sono davvero inesplorati e sorprendenti. Per la cronaca, Andrea ha disputato anche i 100 metri, dove ha corso in 11.51 a soli 5 centesimi dal suo record italiano di 11.46, che magari cercherà di attaccare proprio al suddetto Golden Gala. Infine, in casa Virtus si attende, sarà questione di ore, la conferma del ritorno nella finale oro di Modena in programma a fine giugno.